Bene, grazie Stefano Ribecchi e per stare un po' sulla notizia io vorrei darvi dei dati che sono aggiornati a tre settimane fa, quindi a poco dopo Ferragosto per intenderci e sono i seguenti in sostanza. I dati sono di fonte ANEC, ANEC è l'Associazione Nazionale dei Sercenti Cinematografici, cioè sono i gestori delle sale per intenderci. I dati sono questi. A novembre 2008, dunque tenete conto che vi è una tecnologia della sala cinematografica digitale e questa tecnologia è relativa alla risoluzione, se non uso il termine in modo improprio, della immagine offerta che è 1.3k o 2k. L'Italia ha fatto una scelta di fatto verso il 2k che è la scelta tecnologicamente avanzata e i dati sono i seguenti, appunto dati ieri sera di fonte ANEC dall'amico Enrico Di Mambro che ringrazio ovviamente. A novembre 2008 vi erano in Italia 77 schermi a 1.3k e 42 schermi a 2k. La distinzione tra sale e schermi è che come voi sapete la sala può avere più schermi quando è un multiplex, se la sala ha una sola pellicola in programmazione è una monosala, se ha più pellicola in programmazione tre pellicola, ad esempio è una sala con tre schermi, quindi quando parliamo di 77 schermi non parliamo di 77 cinema ma di 77 offerte al pubblico in sostanza. Nel luglio 2009 i 77 di novembre 2008 a 1.3k sono passati a 80 e i 42 schermi 2k sono passati a 175 di cui 150 con estensione in 3d e il dato che poco fa mi suggeriva Munarini è che è possibile un'esplosione entro fine anno addirittura fino a un raddoppio di questa cifra nell'arco quindi di pochissimi mesi. Il che vuol dire è che l'Italia in questo momento sta rappresentando il punto di eccellenza europeo nel percorso del cinema italiano, nella corsa del cinema italiano verso il 3d. Detto questo io vorrei passare al nostro secondo illustre ospite Roberto Perpignani che qui diciamo io faccio appello diciamo a Perpignani nella sua doppia veste da una parte di grande montatore quindi un pezzo di storia del cinema italiano in un certo senso colui che fa il montaggio è come se fosse un regista in seconda Roberto è possibile definirlo così? In un certo senso è quello che decide poi ciò che viene ciò che viene servito al pubblico sostanzialmente deve prendere il meglio del meglio. Dall'altra però è anche presidente della FIDAC che è la federazione italiana delle associazioni delle professioni quindi è la federazione che riunisce le competenze del cinema italiano. Allora la domanda che vorrei farti se posso farti da spalla se mi permetti è la seguente. In un certo senso il cinema cambia il suo modo di narrare è un modo diverso di porsi di fronte al linguaggio cinematografico. Possono esserci delle resistenze all'interno delle professioni del cinema. Come risponde il mondo delle professioni a questo a questa nuova a questa new age del cinema che offre una nuova esperienza a colui che sta dalla parte della platea ma che impone un nuovo modo di esprimere la professione a coloro che fanno il cinema? Vedi a che serve un moderatore? Serve a metterti in condizione di dare alcune risposte. Magari fossimo in grado di dare le risposte a quello che tu dici perché io qui davanti ho una persona che rappresenta uno dei punti di riferimento della cinematografia italiana che è Cinecittà. Allora ovviamente i professionisti sono una parte, l'altra sono le cosiddette infrastrutture, sono la realtà produttiva, dobbiamo tutti lavorare insieme. Perché quando tu dici le resistenze, le resistenze evidentemente sono qualche cosa che a volte appartiene ad un sistema produttivo, a volte appartiene ad un sistema di spazi intermedi che devono essere quelli che continuano a produrre aggiornamenti anche dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista delle opportunità di usare i mezzi eccetera e poi c'è quella intelligenza dell'applicazione che è affidata alle figure professionali che non devono essere chiaramente minimamente pigre, devono invece rimettersi in gioco con curiosità, con addirittura compassione. Hai citato i miei esordini, io ho conosciuto avendo vent'anni il signor Wells. Beh per me Wells è rimasto la persona che oggi se lo invitassimo qua avrebbe molto da dire su cosa fare con il 3D. Cioè non c'era nulla che non fosse per lui un lanciare sempre la propria immaginazione oltre. D'altronde non è un caso che il suo film d'esordio comincia con una parola no trespassing, cioè non si può andare oltre e invece il film va oltre come, cioè arriverà a sciogliere quel nodo. Allora il vero problema è che avendo avuto dei riferimenti così appassionati durante le mie collaborazioni, per le mie collaborazioni da Wells a Bernardo a Itaviani, a Iancio, Iancio aveva vent'anni più di me quando abbiamo lavorato insieme essendo una persona che realizzava i suoi film solamente con dei movimenti di macchina continui. Quando è arrivato a me mi ha detto questo film lo voglio montare, poi mi ha detto montiamo la Godard. Metteva se stesso in condizione di una provocazione estrema, cioè si contraddiceva da solo. Abbiamo giocato. Allora questo piacere del giocare, questo corrisponde con quello che è sostanzialmente chiedere al futuro un qualche cosa. Io sulla scuola di Cuba ho lasciato una scritta, ma non ho chiesto di scrivere sul muro, ho chiesto come non chiedo a ignorare il passato, dato che non voglio rimpiangere il passato, prefiero provocare al futuro, preferisco provocare il futuro. Allora io sono qui ancora a provocare qualcuno.